Vittoria, playoff per Adelfa e Savellino. Gli elpini tornano dalla Lombardia con un successo, battuti in Aex, 79-77, risultato che porta nuovamente la truppa elpina in zona playoff a quota 30 punti. Inizio firmato da Sacchettini che mette i primi 6 punti della scientifica Legnano, ma poi Carenza e Verazzo segnano i punti del più 5 di Avellino, che aggancia e supera per un primo quarto abbastanza lento che finisce sul 13-18. Secondo periodo in cui si sbloccano Ravio e Vassl, marcati benissimo nei primi minuti di gioco, anche se Bortolin a dare il vantaggio agli ospiti, sul 13-21. Gli elpini hanno poi si estesa con Ponziani e Casini che riducono lo svantaggio sul 20-23, che nella dimensione sarà anche la differenza al ventesimo quando il tabellone del Pallaborseani segna 35-38, dopo una prima accelerata di Vassl per il nuovo più 8 di Biancoverdi di Crotti. L'inizio del terzo periodo è nettamente in favore dei Nikes, che sul pick and roll tra Marina e Sacchettini costruiscono il vantaggio del 43-40, anche se Avellino non molla mai la gara. Planezzi infila il più 7 del 49-42. Legnano fa e disfa con troppa facilità. La terza sirena poi si trasformerà sul 55-58 firmato da Nikolic. L'ultimo quarto di gara vede le due formazioni affrontarsi a viso aperto, scambiandosi più volte la rida e Schirp con Bortolin e Nikolic tra i più pericolosi, rispondendono a Ravio e Marino dall'altra parte. Negli ultimi minuti il tabellone del Pallaborseani indica 73 pari. I liberi di Verazzo insieme al canesso di Burini portano le 73-77 per poi la bomba di Ravio sul 76-77. Nell'ultimo i tiri di Vassl dalla Lanette e Ravio fissano il risultato sul 77-79. I padroni di casa provano a ribaltare come accaduto all'andato al Pallel Mauro, ma non arriva il tiro della svolta. Ci siamo trovati un po' in difficoltà in alcune fasi della partita sul pick and roll Marino Sacchettini perché avevamo fatto una scelta che sapevamo che ci avrebbe potuto penalizzare, potevamo fare qualcosa di meglio, poi chiaramente questo tipo di partite si decidono sui dettagli. Faccio un esempio, il tiro da tre punti concesso a Ravio sul più quattro da un errore abbastanza grave, così come penso anche Legnano abbia da recriminare su alcuni episodi che potevano sfruttare meglio. Una partita che abbiamo giocato in trasferta e quindi vincere in trasferta è sempre un po' più complicato, anche se noi ultimamente ci complichiamo la vita più in casa che in trasferta, però contro una squadra sicuramente che sta recitando un ruolo importante in questo campionato e aggiungo io in un buonissimo momento di forma perché mi sembra che a parte lo scivolone con Livorno, per il resto abbia avuto un gran bel ruolino di marcia nelle ultime partite Legnano, sapendo anche squadra in fiducia che non avrebbe mai mollato, eravamo pronti a giocare questo tipo di partita, Grazie per la visione!